Apri una web agency e ti ritroverai steso, distrutto, senza un euro e molto probabilmente anche sentendoti un fallito. Negli ultimi anni si è fatto a largo questo sogno dell'agenzia. Le agenzie sono come se fossero le nuove startup. Queste sono delle agenzie in cui non lo sappiamo fare quasi niente e troviamo dei clienti a cui permettiamo di trovare altri clienti, magari facendo delle Facebook ads, cose di questo tipo. Facciamo un sacco di soldi e noi ce ne stiamo a farci le foto col telefono all'orecchio mentre stiamo alle canarie delegando tutto il nostro business. Che figata! Peccato che non sia proprio così. Sorry! Ed è così che sono nate web agency, marketing agency, social media agency, video agency, branding agency. Sono nate agency di tutti i tipi. Peccato per una cosa. Nessuno sa lavorare, nascono dieci agency, muoiono nove agency. Per questo in questo video voglio parlarvi del perché non dovreste aprire una web agency, quando, in quali casi specifici ha senso farlo, e cosa fare invece per arrivare ai premi vostri dieci mila euro al mese. che di solito è il traguardo a cui tante persone che aprono un agency puntano, ma, spoiler, non conosco praticamente nessuno che ci è arrivato partendo da zero grazie a un agency. Mi spiace. Parte 2. Poi non so perché in questi video faccio sempre la parte dello stronzo che deve dire le cose che sono un po' più scomode perché è bello parlare di sogni, è bello parlare di diventare imprenditori, ma diventare imprenditori e avere un agency significa diventare imprenditori. Non è facile. Non è facile diventare imprenditori. Quindi in questo video non parleremo di sogni, ma di solide realtà. Iniziamo subito. Ho comprato una lavagna, quindi ho detto perché non iniziare a usarla. Spero che vediate. Possiate vedere tutto. Giusto? Quindi partiamo dicendo una cosa. Avere un'agenzia è però un'agenzia, ovviamente non ha solo dei contro, ha anche dei pro. E adesso li vedremo nel dettaglio. Bisogna dire le cose come stanno. Quindi quali sono i pro del modello agency? Allora, innanzitutto, e questo è uno dei grandi cavalli di battaglia dei guru, delle agenzie, non servono capitali. Da un certo punto di vista l'agenzia, l'agenzia di marketing, l'agenzia di comunicazione, la web agency, è diventata la nuova startup. Per un motivo molto semplice. C'è questa cosa chiamata internet. Internet ovviamente è un'opportunità. All'inizio degli anni 2000 e comunque fino anche a qualche anno fa, internet era vista come opportunità dal punto di vista startup. Cioè, creo aziende come Airbnb, Uber, Facebook, eccetera, eccetera. Questo mondo lo conosco abbastanza bene perché ho lavorato in diverse startup all'inizio della mia carriera e la startup era l'ecosistema nel quale potevi usare le competenze di marketing per creare un'azienda che potesse scalare in breve tempo. E ragazzi, è il sogno. Cioè, nel senso, tutti sognano di creare la nuova Facebook, la nuova Uber, la nuova Airbnb, eccetera, eccetera. Se avessi un euro per tutte le volte in cui mi hanno detto, ho un'idea di business, ecco, sarà l'Airbnb degli affitti commerciali, sarà la Uber dei cavalli, non so, ha capito, una cosa di questo tipo. Cioè, quante persone, quanti aspiranti startup pari hanno provato a creare la nuova Airbnb, la nuova Uber, la nuova Facebook, la nuova Instagram, eccetera, eccetera. Due problemi. Il primo problema è i capitali. Io stesso ho provato ad aprire una startup in passato. Senza soldi è molto difficile farci. Il modello stesso delle startup è un modello in cui tu cresci fondamentalmente con i capitali altrui. Quindi non hai i soldi, hai l'idea, le idee sono gratis, giustamente. Trovi qualcuno in Silicon Valley, perché è nato lì il modello, cioè, parliamoci chiaro, che ti dà tanti capitali e realizzi la tua idea e diventi miliardario. Questo sogno ha attratto un casino di persone, proprio perché era visto come poco sbattimento. Tanti benefici, tanti reward. Ti svegli un giorno, magari sentirete il vento fuori, oggi c'è una tempesta. Ti svegli un giorno, hai un'idea, ti basta trovare un mini team di persone che ti aiutino, magari in un garage, ogni riferimento alla Apple è puramente casuale, degli investitori che ci credano e ti ritrovi con un'azienda, se ti va male, multi, 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 milionaria, se ti va bene, miliardaria. Problema numero uno, i capitali. Problema numero due, che il 90, mi sento di dire il 99%, se funzionasse anche il pennarello, falliscono. Ho collaborato con tante startup, ho conosciuto tanti ragazzi miei coetanei che volevano aprire startup, la maggior parte di queste fallisce. Durissima realtà, se fosse facile, ci sarebbero 200 miliardi di Airbnb, di Uber e di Facebook. Non ci sono perché non è facile. E un tratto caratteristico di chi prova a attuare il modello startup, almeno fino a qualche anno fa vedevo questa cosa, e mi lasciava sconcertato, era l'improvvisazione. E questo è un tratto che vedremo anche nelle agenzie. Cioè l'improvvisazione di dire, ma faccio un business plan, ok, quest'anno faccio zero, quest'anno vado in perdita, l'anno prossimo faccio zero, ma tra tre anni il mio business plan mi dice che farò 3 milioni, tra 5 anni farò 10 milioni, tra 10 anni farò 100 milioni. Io quando leggevo questi business plan, nelle startup che mi davano il lavoro, perché io avevo 25 anni, ero appena entrato nel mondo del lavoro vero, diciamo, mi guardavo questi business plan e dicevo, ragazzi ma, cioè non è perché io ho fatto la bocconi mi hanno insegnato a fare business plan e capisco che questo business plan non ha senso. Cioè potrei avere anche la terza elementare e capire che non ha senso. Sogni, velleità, grandi ambizioni, sogni presi in prestito da altri, sogni collettivi, quasi certezza matematica di fallire. E voi direte, questo nuovo sogno della web agency è molto meglio, perché non servono capitali effettivamente, giusto? Non ho bisogno di un'infrastruttura tecnologica, non ho bisogno di una piattaforma, non ho bisogno di nulla. Io comincio, vendo dei servizi, prendo dei collaboratori, giusto? Il cliente mi dà 10, i collaboratori mi costano 5, io mi tengo 5 come margine, semplicemente delegando e coordinando i collaboratori, vivendo da una bellissima spiaggia. E vedremo a breve se è effettivamente così. Secondo punto è proprio questo, cioè non solo non ti servono capitali, ma puoi delegare. Cioè non ci devi mettere soldi tuoi e non devi neanche fare il lavoro tu. O almeno, nella versione guresca è così, nella versione realistica, comunque puoi lavorare con altre persone. Non devi fare tutto tu, questo è bello, questo è positivo, perché possiamo interagire, perché possiamo creare un team, perché comunque come nel sogno della start-up c'erano i due Steve della Apple in un garage, adesso può esserci Marco e Mario o Maria che hanno l'agenzia, delegano un team e comunque creano una squadra. Bello, positivo. Terzo pro della web agency, l'online è sdoganato. Anche se molte persone non se ne sono rese conto, viviamo in un'epoca in cui l'online è mainstream, cioè tutti i clienti sanno di aver bisogno di copy, sanno di aver bisogno di social, sanno di aver bisogno di email, sanno di aver bisogno di pubblicità. Tutti. Viviamo in un mondo che non è il mondo di 5, 6, 10 anni fa quando ho iniziato io. Adesso anche il panettiere sa di aver bisogno di una gestione social. E questo significa che è un mercato che è in completa espansione. Se facciamo la curva di adozione, molto probabilmente siamo qui. Siamo nel mainstream. Siamo in un'epoca in cui anche le nonne fanno le influencer. Siamo in un'epoca in cui chi non ha ancora queste competenze, le competenze online, digitali, è indietro. È totalmente indietro. Ormai queste cose le impari quasi alle università. Le università o comunque le scuole mainstream, le università, le scuole, le accademie mainstream sfornano ogni anno decine di migliaia di persone che hanno imparato queste skill online. Magari non con un'ottima qualità, magari non sono al 100% sul pezzo, questo è un altro problema. Però fare le Facebook Ads oggi è una skill mainstream. Fare il copywriter oggi non è più una cosa di nicchia. Oddio, non ci sono i copywriter. 5, 6, 7, 10 anni fa non c'erano i copywriter. Adesso c'è pieno di copywriter. Bravi, bravini, quello è un altro discorso, ma ci sono. Sicuramente c'è tanta richiesta di questa roba. Quindi uno dice, non devo metterci capitali, posso delegare il lavoro. I clienti arrivano perché c'è pieno di richiesta di queste cose. Ergo, wow, posso guadagnare con una cosa di cui c'è richiesta senza dover lavorare operativamente e senza metterci un euro. Quale altra attività, azienda, ti permette di iniziare senza metterci un euro? Questo ci fa capire perché oggi il sogno della social media marketing agency, il sogno della web agency, è appunto un sogno collettivo. Come qualche anno fa c'era il sogno di fare la start-up. Eppure, e adesso capiamo perché, tutti falliscono. Questi erano i pro, adesso capiamo quali sono i problemi. Vedete che ho degli strumenti veramente avanzati, addirittura un fazzoletto per pulire la lavagna, ma ce li facciamo andare bene. Dopo i problemi capiremo anche come risolvere questi problemi, quindi state ovviamente fino alla fine. Ah, e per chi mi dice, Jacopo fai i video di mezz'ora, oggi non lo sai che i video di mezz'ora non vanno, dovresti saperlo, eccetera, eccetera. Parto dal presupposto che questi video riguardano persone che vogliono comprendere a fondo, che vogliono approfondire. So benissimo che chi guarda questi video è una minoranza, ma so anche benissimo che sto condividendo tutto quello che so in questi video e che è conoscenza gratis, che io mi ho impiegato anni e anni e anni ad apprendere e che mi ha fruttato centinaia di migliaia di euro. Quindi, valutate voi. Uno, trovare clienti. Uno dice, sì, c'è tanta richiesta, quindi il mercato comunque c'è, per i servizi web, che sia video editing. Poi ogni mercato ha le sue specificità, adesso vedremo, che sia Facebook Ads, che sia gestione dei social media, che sia proprio un'agenzia che fa tutto, la classica web agency. I clienti ci sono, ma vanno trovati. Come si trovano i clienti? Ci sono tanti modi, ovviamente, in questo canale tra l'altro abbiamo parlato spesso di come trovare i primi clienti. Vi lascio anche un video qui, uno dei vari video in cui tocco l'argomento. Il modo principale è col personal brand. Se voi pensate di trovare clienti per la vostra agenzia grazie al nome dell'agenzia, state commettendo un primo errore. Perché anche se avete un'agenzia, anche se create questa entità che è più grande di voi, molto probabilmente sarete voi o sarà comunque una persona a trovare i clienti. Questo vuol dire che non sarà l'agenzia a fare i contenuti, molto probabilmente, ma sarete voi, un vostro socio, a fare i contenuti. Nel tempo c'era questa persona che c'è ancora ovviamente nelle agenzie più grosse, che si chiama, che è l'account. L'account è la persona che, non so se avete visto Madman, la serie, la persona che sta tra magari il team creativo e il cliente. È la persona che trova i clienti, è la persona che gestisce i clienti. E le agenzie grosse hanno ancora l'account. Alcune agenzie un po' più piccoline provano comunque ad avere un account, ne conosco poche. La maggior parte delle agenzie ha due fondatori, che sono di solito, di solito, creativo marketing e project manager. Una persona fa il lavoro, una persona gestisce il lavoro. Se voi avete una struttura di questo tipo, voi potete avere gli operativi. operativo 1, operativo 2, operativo 3, vengono gestiti dal project manager, che gestisce intanto anche il direttore creativo, quello che si occupa del marketing, eccetera, eccetera. Quello che ha la visione d'insieme sul lavoro, ok? Che però non lo gestisce. Perché molto probabilmente, se siete una persona creativa, se siete una persona che lavora a determinate cose, non siete anche la persona che gestisce, di solito. Quindi diciamo che molto probabilmente l'account non si incastra in questa organizzazione, perché siete piccoli, perché state partendo. E non potete permettervi di pagare una persona che non fa il lavoro operativo e non organizza il lavoro, e non dirige il lavoro a livello creativo. Questa persona è di troppo in un'organizzazione piccola. Quasi nessuna agenzia parte da zero con un account. Potremmo parlare della possibilità di introdurre questa persona anche nelle agenzie piccole. Qual è il problema comunque cercando di andare all'osso? Il problema è che se voi avete questi due soci, per esempio, dell'agenzia, uno dei due deve fare i contenuti. Mettiamo che sia il creativo che fa i contenuti, il creativo si crea un personal brand. Quindi il creativo in questo caso sviluppa un personal brand, diventa famoso, conosciuto, autorevole sul mercato, trova clienti e porta questi clienti in una struttura con tot persone, nella quale lui comunque deve lavorare, perché lui comunque fa il direttore creativo, fa la strategia di marketing, fa quello che vogliamo. Quindi lui si fa lo sbattimento di trovare tutti i clienti e poi si fa lo sbattimento anche di lavorare. Secondo problema, e qua ci arriviamo, margini. Mettiamo anche che tu ti sia fatto un bel personal brand, giusto? Hai trovato un cliente e hai chiuso un lavoro a 5k, prezzo realistico, né troppo alto né troppo basso. Preso questo lavoro da 5k, molto bene, qui se ci fossi stato solo tu ti saresti beccato 5k. Qui devi pagare un socio, quindi lo devi divider per due, e già diventa due e mezzo, e poi devi pagare magari due o tre risorse. Quindi finisce che ci guadagni forse in l'euro. Sto alto, sto alto. Da un lavoro di 5k ti porti a casa 1k. Quanto ci hai lavorato? Questa è una bella domanda. E uno dice, ok, effettivamente questo è un problema. Perché? Qual è il problema vero? Il problema vero è che se tu hai un personal brand molto riconosciuto, discretamente riconosciuto, la persona paga soprattutto per il tuo personal brand. L'errore in cui molti cadono è, io sono un'agenzia, quindi posso chiedere prezzi molto più alti. Se sei tu come personal brand che trai nell'agenzia, il cliente avrebbe pagato 5k a te singolarmente, e paga 5k a te come agenzia. Quindi tu dici, sai cosa faccio? Io per evitare di portarmi a casa solo 1.000 euro, lordi, alzo il prezzo a 10k. Andiamo anche a 15k. Non è facile, innanzitutto. Non è facile perché il cliente fa fatica, generalmente, a riconoscere il fatto che c'è tutta questa struttura da pagare. Cioè tu hai tanta roba che ti esce, ma al cliente non gliene frega più di tanto. Al cliente frega del risultato. E se tu fossi stato capace di portare questo risultato da solo, al cliente sarebbe andato bene lo stesso. Ti avrebbe comunque pagato quei 5k, che è disposto a pagarti anche se tu devi delegare questo. Quindi tu dici, mi faccio meno sbattimento perché ho delle persone che mi aiutano, queste persone però le devo pagare. E il fatto che le debba pagare non frega più di tanto al cliente, quindi i margini sono estremamente ridotti. Quindi o alzi i prezzi, e alzare i prezzi non è semplice. Io ho mastermind, si chiama Funky Lancers, per freelance e anche persone che hanno agenzie. Parliamo tanto di come alzare i prezzi, questa cosa funziona ovviamente, ma non sono tanti i professionisti sul mercato che sono capaci di avere prezzi alti. Quindi io impari questa cosa, e ripeto, se vuoi c'è Funky Lancers, ti puoi candidare al link in descrizione, oppure, e questo non lo capisce nessuno, però, oppure, quello che fanno praticamente tutti quelli che hanno un'agenzia, che aprono un'agenzia, che cercano di avere un'agenzia, prendono più clienti. E naturalmente, se un cliente mi paga un k, molto semplicemente io prendo un altro cliente da un k, un altro cliente da un k, un altro cliente da un k, che mi porta un k, ok? Io ho fatto uno, due, tre, quattro, cinque k, ma li ho fatti non da un cliente, come avrei potuto fare lavorando da solo, ma li ho fatti da cinque clienti. Qual è il problema? Che fare cinque k da cinque clienti non è la stessa cosa che fare cinque k da un cliente. E uno pensa, però qua sono da solo qua, ho cinque persone, tre, quattro persone che mi aiutano. E qui arriviamo al prossimo, grosso, enorme problema. Il caos, l'entropia. Ora, se vai in questa direzione, devi capire che ogni cliente ha un costo fisso, che è dato dal fatto che dovrai parlare con una persona in più, dovrai avere un numero di telefono in più sul cellulare che ti può chiamare, dovrai avere più meeting, dovrai avere più complessità in generale, un progetto in più da ricordare, un nome in più da ricordare, una persona in più con cui interagire, magari anche più collaboratori. Perché? Perché con tre collaboratori arrivavi a quattro progetti, il quinto progetto ti richiede di avere un collaboratore in più. Quindi hai un operativo in più. E quindi il project manager ha una persona in più da gestire. Il caos aumenta, l'entropia aumenta. L'entropia aumenta per ogni cliente in più che hai. Non solo. Siccome più clienti ti portano a più collaboratori, questa cosa aumenta l'entropia in modo esponenziale. Perché? Perché hai una persona in più da trovare, hai una persona in più da selezionare, hai una persona in più da gestire. Trovare i talenti è estremamente difficile. Allo stesso modo della startup, quando pensavamo, faccio una startup, prendo un team, trovo investitori, scalo e tutto il resto. La facciamo facile nella nostra testa. Ce l'hanno fatta facile, non è facile. Trovare i talenti è difficile. Selezionarli è difficile. Non puoi dire, ah, un amico che sa fare le Facebook Ads, prendo l'amico che sa fare le Facebook Ads. Siamo sicuri che umanamente sia una persona allineata con te? Siamo sicuri che sia una persona responsabile? Dovrai responsabilizzare la persona, perché la responsabilità alla fine sarà tua. Il cliente verrà a prendersela con te, non verrà a prendersela con Mario che ha sbagliato tutte le campagne. Tu non hai gestito Mario. Sono cazzi tuoi. Il cliente se la prende con te. Questa cosa non è facile, non è semplice. Anzi, è dal mio punto di vista la cosa più difficile possibile immaginabile. E adesso capiremo come andiamo a risolvere questa cosa. A breve. In generale, il problema di questo modello è che devi trovare clienti e molto probabilmente li troverai tu. O li troverà il tuo socio. E se li trovi tu, a un certo punto ti chiederai ma perché io sto trovando tutti questi clienti che poi non mi porto a casa nulla? Se li trova il tuo socio, si farà la stessa domanda. Quindi, questo è l'oro. Il personal brand, la tua riconoscibilità, la tua autorevolezza, è il tuo oro. È uno dei tuoi asset. Non riesci però a capitalizzarlo perché hai tante risorse che ti portano via tanto margine e che ti portano in cambio del margine che si prendono. Tanta entropia, tanto caos. Stai scambiando soldi per caos. Margine per caos. Immaginati, tu vai da uno sconosciuto e lì dici guarda io ti do tutti i miei margini e tu mi dai un sacco di caos. Però forse se fai le cose benissimo tra 3-4 anni avrai più tempo libero. Perché? Perché avrai formato delle persone che all'inizio sono stati un cazziacidi ma dopo un anno dopo due anni dopo tre anni dopo un sacco di errori dopo clienti che se ne sono andati perché il tuo collaboratore ha fatto cavolate dopo notti insonni dopo tutta una serie di cose avrai formato delle persone che saranno finalmente formate e che finalmente staranno con te e lavoreranno al posto tuo per sei mesi e poi ti molleranno e tu sarai da capo. E questo ti porta al quarto problema che è meno autonomia. Cioè paradossalmente abbiamo creato un team per andare dove non potevamo andare da soli. Questo è positivo però allo stesso tempo significa che se abbiamo quattro risorse se abbiamo un socio se abbiamo un project manager anche assunto che non è un socio e noi prendiamo cinque clienti dieci clienti che ci chiedono un lavoro che ci danno delle deadline per le quali abbiamo bisogno di questa struttura se Mario ci abbandona noi abbiamo un problema se domani litighiamo con il socio o il project manager si ammala o succede qualcosa abbiamo un problema perché abbiamo preso accordi per i quali ci servono altre persone che non siamo noi. Quindi vedete quali sono le criticità di questo modello. Per stare in piedi serve una persona che traimi e magari quella persona siamo noi. Noi però non possiamo godere i frutti del nostro personal brand perché comunque abbiamo spese alte e margini ridotti il che aumenta la complessità l'entropia e ci rende dipendenti dalla struttura che abbiamo creato. Quindi dobbiamo comunque capire se è quello che vogliamo perché noi vediamo il sogno imprenditoriale dell'azienda con cento mille dipendenti. Qual è un conto in cui ci sono manager direttori è tutto delegato. Questa è un'altra cosa a parte il fatto che non è facile arrivare là ma questa è un'altra cosa cioè qui se se ne va uno di questi è un problema se se ne va l'advertiser e domani devo fare delle facebook ads è un problema chi le fa? Cioè paradossalmente ci siamo messi in proprio per avere più autonomia ma ci ritroviamo ad avere meno autonomia perché dipendiamo dalla nostra stessa struttura che è una struttura che ha avendo margini ridotti ha anche margini di errore ridotti perché cosa succede se perdiamo una persona e quindi dobbiamo perdere un progetto e i nostri margini erano talmente ridotti che ci servivano a quel progetto non solo per fare utile e comprarci una macchina ma proprio per vivere perché? Perché avevamo calcolato che il nostro break even il nostro punto in cui noi comunque avevamo non lo so i 5k per vivere a mese mettiamo che abbiamo uno stile di vita da 5k adesso ne parliamo fosse con 5 clienti perché noi come fondatori avevamo ma abbiamo un margine sto semplificando di 1k per cliente se perdiamo una persona perdiamo il cliente e quel mese siamo in difficoltà economica se anche senza perdere una persona perdiamo un cliente perché magari la persona ha fatto una cavolata perdiamo un cliente e non sappiamo più come vivere quel mese e dovremo tornare a cercarci i clienti con il nostro personal brand e questa cosa inizierà a pesarci magari perché? perché troviamo clienti troviamo clienti troviamo clienti ma non abbiamo mai un euro sul conto siamo sempre nella stessa situazione e in tutto questo ci stressiamo perché dobbiamo comunque avere a che fare con tante persone perché il sogno dell'azienda delegata molto spesso è un sogno cioè il sogno in cui io sono il creativo sono il direttore creativo e il project manager gestisce tutte le persone io non parlo con nessuno e credo e basta è un'utopia non esiste almeno esiste magari in qualche realtà estremamente 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 delegata magari più grande però è molto difficile arrivarci non è la realtà del 99% delle agenzie delle aziende chiudo i problemi e poi arriviamo alle soluzioni con un problema che non è intrinseco al modello dell'agenzia ma che diventa intrinseco a questo modello per tutti i presupposti che ci sono cioè per il sostrato culturale e sociale in cui questo modello è inserito per il sogno collettivo in cui è inserito si crea questo ultimo problema che è un problema enorme che è un problema gigantesco che è l'improvvisazione così come io dieci anni fa vedevo start up per improvvisati oggi vedo ma è la maggior parte delle agenzie sono agenzie improvvisate e non ne faccio una colpa è anche bello che noi possiamo improvvisarci però un conto è che io mi improvviso da solo quando siamo freelance abbiamo come dire un raggio di azione che è così noi facciamo il copyright prendo clienti come copy e faccio determinate task che possono essere la newsletter che possono essere le landing page che può essere tutta una serie di cose ok questa è la nostra sfera d'azione quando decido di aprire un'agenzia magari decido di fare anche i video decido di fare anche la gestione dei social decido di fare anche le ads decido di fare anche tutta una serie di altre cose per cui mi servono operativo 1 operativo 2 operativo 3 eccetera eccetera ok queste le faccio tutte io queste le fa una persona 2 una persona 3 questa la fa ancora la 2 questa la fa la 4 questa la fa la 4 questa la fa ancora la 3 per dire ok tutta una serie di cose è ovvio che io posso improvvisarmi i copywriter e magari nell'arco di qualche mese comunque ovviamente non mentendo ai miei clienti spacciandomi per esperti comunque faccio un po' di esperienza e ne so un po' di copy ma è molto più difficile saperne di tutte queste cose qui molto più difficile e questo che cosa che cosa causa? causa il fatto che arriva il cliente e ci dice ah tu hai una web agency perfetto a me serve il piano editoriale mi serve il video di lancio mi serve la landing page mi serve tutta una serie di cose dico perfetto ho tutte le persone che me lo fanno ma l'elefante nella stanza e il grosso enorme gigantesco problema qual è? è che e questo è un problema intrinseco a molte molte la maggior parte del web agency è che non puoi delegare non puoi delegare ciò che non sai fare enorme problema cioè questa idea della complementarietà no? io sono un creativo so fare ideare so avere idee so scrivere so fare tutta una serie di cose mi prendo un project manager e poi prendo l'advertiser prendo il videomaker prendo tutta una serie di persone se io non so fare quelle cose non le posso delegare se il cliente viene da me e mi dice guarda che ho bisogno di tutta una strategia di comunicazione declinata poi in questo in questo in questo io dico cavoli che bello gli faccio un bel preventivone da 15k in cui io faccio la direzione creativa bel termine direzione creativa e poi ho gli operativi che mi fanno l'advertising che mi fanno la SEO che mi fanno tutta una serie di cose ma se io non le so queste cose non le posso delegare perché il cliente lo mando al diavolo cioè il cliente lo mando veramente a puttane sapete quante web agency dicono io ti faccio tutta una serie di servizi integrati eccetera eccetera poi prendono un collaboratore collaboratore 3 collaboratore guarda questo è il progetto adesso fammi un post social il collaboratore dice sì ma come faccio a capire cosa devo comunicare quali sono i valori del progetto qual è la sua storia e il collaboratore si trova questo è il cliente questa è l'agenzia il collaboratore non si trova questo chiamiamolo collaboratore il collaboratore dovrebbe trovarsi qua in cui può parlare col cliente per avere in questo caso la storia i valori tutta una serie di cose può parlare con l'agenzia per appunto avere i brief eccetera eccetera ma molto spesso il collaboratore si trova qua quindi il collaboratore si trova lontano dal cliente non può comunicare direttamente col cliente per avere quello che vuole per esempio i valori, la storia tutto il capitale di storytelling che il collaboratore dovrebbe raccontare ma ha come filtro come intermediario l'agenzia che non capisce che cosa serve al collaboratore per poter deliberare il lavoro perché perché non l'ha mai fatto perché tu qui hai un proprietario di agenzia che è un tizio che si fa le foto alle canarie col telefono mentre dirige il team in tutto il mondo che non ha mai fatto il copywriter e non sa che a te copywriter servono determinate cose dal cliente e questo crea caos perché perché quello dell'agenzia dice al copywriter collaboratore ma scusami tu sei l'esperto tu sei il copywriter ti chiedo 10 post fammi 10 post quanto vuoi per 10 post e questo crea un caos totale perché questo non sa un cazzo questo non ha mai lavorato in un'agenzia e sicuramente non sa fare il lavoro di un'agenzia non sa tutti i dettagli i micro particolari le meccaniche il funzionamento di questo lavoro questo qua magari ha le prime armi perché quello dell'agenzia il collaboratore ha le prime armi perché quello dell'agenzia ha voluto premere una persona che costasse poco per aumentare i margini e non ridurre troppo i margini e questo risulta nel fatto che l'agenzia ha vita corta il cliente non ottiene quello che vuole non ottiene i risultati il collaboratore magari non viene neanche pagato alla fine sapete con quante webagini si ho lavorato all'inizio della mia carriera e mi hanno chiesto lavori per cui usavano grossi nomi ma sai perché qui usiamo una strategia integrata di cose eccetera poi erano delle puttanate che mi hanno pagato una miseria e che ci hanno messo 3, 4, 5 mesi per pagarmi sapete quante persone conosco che non vengono neanche pagate alla fine perché? perché questa struttura non sta in piedi perché questa persona ha delegato cose che non sapeva fare a persone che gli chiedessero il prezzo più basso perché non aveva margini perché lui stesso o lei stessa non riusciva a stare in piedi l'agenzia deliverando un lavoro schifoso al cliente perché intanto prendeva più clienti possibili per poter stare in piedi e questo è un gioco da cui non vince nessuno dal quale non vince nessuno e se c'è una frase che io ho sentito decine di volte negli ultimi anni da parte di clienti da parte di imprenditori aziende è mi ero rivolto a un'agenzia puntini puntini questa frase non finisce mai bene mi ero rivolto a un'agenzia ma mi hanno rubato i soldi hanno lavorato male non mi hanno portato i risultati non ci siamo trovati bene eccetera eccetera e purtroppo non è che quello dell'agenzia fosse per forza una persona scorretta fosse per forza un'idiota semplicemente si è incastrato in questo modello che sembrava un sogno e si è rivelato un incubo e qui abbiamo visto i motivi principali oltretutto un altro problema nel delegare ciò che non abbiamo prima imparato noi a fare immaginiamo che noi deleghiamo a Mario questo è Mario collaboratore operativo 4 che fa l'advertiser gli deleghiamo le campagne del cliente perché il cliente ci ha chiesto anche di fare advertising e tutto il resto Mario alla nostra riunione del mercoledì ci viene a portare i dati delle campagne e Mario ci dice ok abbiamo fatto una campagna tofu una campagna mofu una campagna bofu abbiamo un costo per lead del genere un ROAS di questo tipo e ci porta tutti dei dati e noi siamo persone inclini alla delega ci fidiamo di quello che ci dice Mario ci fa un bel racconto come cazzo facciamo a sapere se quello che ci sta dicendo Mario ha senso oppure no come facciamo a sapere se Mario ci sta raccontando delle cavolate se Mario sta non vuol dire che Mario sia cattivo ma se Mario sta prendendo una cantonata enorme o si è sulla strada giusta cioè noi stiamo affidando il budget del cliente a una persona che non sappiamo controllare che non sappiamo valutare che non sappiamo aiutare come facciamo ad aiutarlo se non lo sappiamo fare neanche noi ragazzi questo sembra una cosa scontata ma sapete quanti proprietari di web agency proprietari tra virgolette cioè hanno due tre forfettari messi insieme magari magari neanche ne hanno uno solo perché non arrivano gli 85 mila euro non sanno cosa delegano non sanno le cose che delegano non sanno capire improvvisazione vivono nell'improvvisazione questo è un grosso enorme problema trasversale in tutto il nostro paese le agenzie oggi sono un buco nero nel 90% dei casi non portano risultato non sanno cosa stanno facendo bruciano budget non si portano a casa nulla voi dite ma insomma bruciano budget intanto fanno un sacco di soldi neanche quello cioè i soldi del cliente vengono bruciati e nessuno ne trae profitto né l'agenzia né i collaboratori né il cliente è una magia è un buco nero cioè è una sparizione il cliente magari si è anche messo in difficoltà nel pagare quei soldi in qualche modo in questo processo incasinato i soldi finiscono un po' il collaboratore è poco un po' l'agenzia poco un po' in budget sprecato un po' non si sa dove finiscono questo è il quadro negativo un po' anche apocalittico delle agenzie italiane delle web agency italiane adesso cerchiamo di capire come si può fare al contrario per creare un'agenzia che sta in piedi e quale può essere una strada un modello alternativo a questo quindi cancelliamo questo devo fare piano perché sono sposto la lavagna cancelliamo anche il titolo questa parte non la taglio neanche perché se cambiate video solo perché sto cancellando significa che avete una soglia dell'attenzione troppo bassa e questa cosa non va bene combattiamo la soglia dell'attenzione bassa per favore allora so che ho distrutto i vostri sogni probabilmente adesso cerchiamo di andare nel positivo e capire quando aprire un'agenzia in un certo senso ha senso ok allora diciamo che questa è la vita di un freelance mettiamo due assi verticali questo grafico l'ho fatto vedere spesso mettiamo che questo sia il tempo tempo questi siano i soldi ok e che questi siano 10k qual è il più grosso problema? il più grosso problema è che molti freelance iniziano un'agenzia qua cioè io sono all'inizio magari faccio il dipendente non so fare niente faccio un corso di facebook ads faccio un corso di copywriting faccio un corso di quello che vuoi e dico sai cosa? apro un'agenzia trovo come abbiamo detto una persona che sappia fare le cose che io non so fare apro la mia agenzia qual è il problema di questa cosa? che io sto vedete qui i soldi sono a 0 quindi Mario guadagna 0 euro vuole creare un'agenzia ha questo sogno trova una persona che si chiama Giovanni Giovanni che guadagna 0 euro e si dicono sai Mario dice ascolta Giovanni perché non ci mettiamo insieme? facciamo un'agenzia troviamo clienti e tutto il resto qual è il problema? che 0 più 0 fa 0 sorprendentemente quindi Mario e Giovanni si trovano a guadagnare 0 in 2 diviso 2 che fa comunque 0 ovviamente come abbiamo detto si scatena il problema di prima magari Mario è quello che comunica quello un po' più spigliato è quello un po' più conosciuto magari anche localmente eccetera eccetera perché Giovanni è un nerd fa lo sviluppatore e ha la propensione a organizzare quindi Giovanni è lo smanettone Mario ha un profilo LinkedIn inizia a pubblicare e a un certo punto questa entità inizia a generare appunto non 0 euro ma 1000 euro quindi Mario porta 1000 Giovanni porta 0 insieme guadagnano 500 euro e si innesca tutto il circolo di prima prima che questa cosa li porti a poter vivere tutti e due passa un sacco di tempo tanto tempo con tutti i problemi che abbiamo visto prima prendere più clienti per avere perché non ci sono i margini improvvisazione eccetera eccetera quanto sarebbe stato diverso se Mario fosse formato avesse fatto esperienza fosse arrivato a un punto che può essere questo idealmente in cui già aveva un personal brand perché spoiler doveva comunque farselo per ottenere i clienti quindi tanto vale fartelo no tanto vale iniziare facendoti un personal brand tanto vale iniziare trovandoti i tuoi clienti che non devi dividere la cosa per due giusto? tanto lo dovrai fare comunque dovrai comunque trovare clienti dopo dovrai comunque farti un personal brand dopo quindi inizia prima arrivi a una cifra che può essere di 10k ma ovviamente è soggettiva questa cifra questa cifra può essere di 3k 4k che cosa dobbiamo capire? come possiamo capire qual è la cifra e il momento in cui ha senso iniziare a delegare? ma molto semplicemente lo stile di vita stile di vita quanto mi serve per vivere? per vivere decentemente vivere come vorrei vivere non prendermi la Ferrari ma potermi pagare l'affitto potermi pagare la spesa potermi uscire potermi comprarmi un corso poter avere la vita minima magari mi servono 3.000 euro sto ipotizzando ok? 3k quando è che inizia ha senso iniziare a delegare? ha senso iniziare a delegare quando ciò che guadagno guadagno uguale incasso fatturato mettiamo chiamiamolo profitto vabbè abbiamo capito fatturato meno costi e se a me serve uno stile di vita da 3.000 euro devo stare attento che fatturato meno costi sia maggiore 3.000 devo invertire cioè io all'inizio sono a zero e dico delego trovo un socio iniziamo a prendere clienti a delegare e non arriverò probabilmente mai ai 3.000 o ci arriverò tra 3 anni invece io dico io prima mi focalizzo sul diventare professionista che può avere più di 3.000 euro da solo quando ci sono arrivato dico ah wow ok ho coperto il mio stile di vita e ragazzi la via più semplice per arrivare a 3.000 euro o 10.000 euro non è creare questa cosa qua ma è diventare un professionista con un personal brand che sa farsi pagare che può arrivare a queste cifre quando ho superato 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 queste cifre posso togliere dei costi abbassare i miei margini e arrivare alla mia cifra minima magari con la prospettiva di espandermi guadagnare meno ma lavorare meno cosa che non è automatica nel momento in cui delego non lavoro meno se io guadagno tanto e delego a qualcun altro che ha meno esperienza di me devo formare quella persona come abbiamo detto ok quindi è un work in progress per calcolare questo punto di rottura che può essere 10k può essere 5k per qualcun altro può essere anche 20k dobbiamo capire qual è il nostro punto in cui siamo arrivati al massimo cioè siamo arrivati a chiedere il massimo massimo max del prezzo che possiamo chiedere abbiamo il max dei clienti dei numero clienti e il max dello solitudine perché molte persone dicono ok io ho già 5 clienti non ce la faccio a gestirne di più quindi delego aspetta un attimo quanto ti stai facendo pagare da questi clienti? 500 euro al mese? eh allora no allora alzi i prezzi prima di delegare alzi i prezzi hai 5 clienti che ti pagano 500 euro domani ne avrai 3 che ti pagano 1000 e già stai guadagnando di più con meno clienti con meno entropia con meno caos non ti serviva delegare ti serviva alzare prezzi oppure ah sono arrivato al mio numero massimo di clienti 3 clienti mi pagano già il massimo che possono pagarmi mi sono rotto le palle di stare da solo allora in quel caso sì però cerchiamo di guardare questi 3 criteri la domanda è dovrei delegare? capiamo molte volte le persone tante persone vogliono lavorare con altre persone però ci sono altri modi per lavorare con altre persone non devo per forza creare un team non devo per forza creare quell'infrastruttura non devo per forza ridurre così tanto i miei margini adesso ne parleremo puoi creare un network puoi entrare in un mastermind come Funky Lancers e lavorare con diverse persone collaborare con diverse persone ma non sono persone alle tue dipendenze non sono persone che ti abbassano i margini non sono persone che devi gestire non esiste solo il modello dell'agenzia in cui tu sei al vertice e hai sotto tot collaboratori che devi pagare quindi facciamoci sempre queste 3 domande sto chiedendo il prezzo giusto il prezzo massimo o posso chiedere di più sono effettivamente arrivato al numero massimo di clienti che mi pagano il prezzo giusto e costa anche una propensione personale per alcuni è molto bello lavorare da soli per alcuni è molto bello lavorare con altri ho voglia veramente di lavorare con qualcuno o sto semplicemente inseguendo un modello che mi hanno inculcato dell'agenzia ma che non voglio veramente attuare perché a me è successo questo io non sognavo di avere un'agenzia mi ci sono trovato ho detto cazzo che figata e poi ho scoperto tutti i problemi vi sto parlando dalla mia esperienza ok quindi primo criterio per capire se è il caso di delegare se sei pronto o pronta per delegare è tutto questo sei arrivato o arrivata al tuo punto di rottura che per me idealmente è 10k 10k al mese può essere 7 può essere 8 ma vicino ai 10k per alcuni può essere 5k se fai 0 non è il momento di delegare se fai 2000 euro non è il momento di delegare fidati mi ringrazierai secondo criterio hai già una visione a 360 gradi del mercato cancelliamo un attimo qua tu sei un copywriter però ne sai anche di ads ne sai anche di video minimamente ne sai anche di design ne sai anche di strategia di marketing vedi che hai una visione a 360 gradi questo lo possiamo ne sai anche di content eccetera eccetera cioè ti vai a creare una visione in cui tu puoi guardare in tutte queste direzioni perché ne sai e quindi come abbiamo visto puoi iniziare a delegare se tu hai una visione a 360 gradi di tutte queste cose sei un freelance già molto navigato e molto probabilmente sei già arrivato a un certo livello anche economicamente quindi questi sono due lati della stessa medaglia devi saperne e devi avere un certo giro economico se tu ne sai a 360 gradi puoi delegare perché? perché non puoi delegare se non sai devi sapere per poter delegare come abbiamo visto e allo stesso tempo hai i margini per poterlo fare questi sono i due lati della stessa medaglia devono esserci tutti e due ok? molto importante quanto ti ci può volere per avere una visione a 360 gradi? è ovvio che non tutte le agenzie sono agenzie che fanno tutto tu puoi essere un'agenzia che fa solo gestione social e in questo caso non ti serve sapere di determinate cose però pensa anche solo a un'agenzia che fa gestione social deve comunque saperne di ads perché sui social comunque sponsorezzi devi comunque saperne di video perché sui social i video sono importanti devi comunque saperne di design devi saperne di content devi saperne di copy quindi anche un'agenzia che è settoriale solo social solo instagram comunque devi saperne di tante cose e quindi devi aver accumulato una certa esperienza e molto probabilmente se hai accumulato una certa esperienza hai anche un certo minimo livello di fatturato può darsi che non sia così può darsi che tu abbia tanta esperienza ma poco fatturato e allora non ti focalizzi sul delegare ti focalizzi sul fare più fatturato perché quando avrai tutte e due le cose sarai pronto pronta eventualmente per delegare non è un obbligo puoi andare avanti a fare 10k al mese 20k al mese da solo da sola senza delegare non c'è solo una via e certo magari avrai più solitudine magari intererai in un mastermind o in una cosa di questo tipo avrai delle connessioni un network però avrai un personal brand della madonna avrai un casino di margini il 100% e sarai contento contenta soddisfatto soddisfatto dal punto di vista lavorativo economico e anche relazionale personale terza condizione necessaria per poter delegare terzo scenario in cui ha senso delegare hai le persone giuste hai le persone giuste cioè teoricamente è pieno di persone che ne sanno di ads è pieno di persone che ne sanno che sanno fare video è pieno di persone che ne sanno di contenuti è pieno di persone che fanno design teoricamente è così ma tu non stai costruendo un meccanismo fatto di pezzi di ferro di acciaio stai costruendo un team che è fatto di persone persone che poi dovrai gestire persone che dovranno avere a che fare magari col cliente persone con cui tu dovrai avere a che fare persone che potranno lasciarti, fregarti, rubarti dei soldi, non fare il lavoro, fare il lavoro ma essere dei rompicoglioni e tutto. Le persone sono persone. Avrai tot relazioni. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto relazioni. Più i clienti. Trovare queste persone è la cosa più difficile possibile e immaginabile. Cioè ci sono delle agenzie, ci sono delle agenzie inteso come aziende di cacciatore di testa, il cui unico compito è trovare talenti. Trovare talenti è la cosa più difficile possibile e immaginabile. Se voi pensate, ah ok, su questa curva qui non so niente, qui ne so un botto, qui sei stupido, qui sei letteralmente stupido, questi pennarelli sono assurdi, qui sei letteralmente stupido, stupido. Cioè nel senso non è che sei stupido di cervello, ma non sai nulla. Qui sai tutto. Yes. La cosa più sbagliata che tu possa fare è mettere le azioni più difficili e complesse qui quando tu sei stupido. Quando tu sei stupido devi imparare. Devi imparare la tua skill, come avere a che fare con i clienti, come farti pagare, più o meno, come non mandare a puttane eccetera eccetera eccetera. Queste sono le skill di base che tu devi apprendere all'inizio. Quando sei qui hai le spalle molto strette, molto strette, perché non hai mezzi mentali per gestire la complessità. La cosa più stupida che tu possa fare, e la fai perché sei stupido qui, quindi non sai che è così, ma in questo video lo stiamo anche capendo e stai imparando la mia esperienza, di ex stupido e a sono stupido ancora ma sono uno stupido più vecchio adesso, che ha capito qualcosa, è mettere la cosa più difficile, cioè trovare i talenti e trovare il team giusto, trovare quel mix di persone che ti permetterà di trasformare questo non in un incubo ma in un sogno, metterlo all'inizio. Quando tu sei stupido, se tu sei stupido come fai a trovare persone intelligenti? Se tu sei stupido come fai a fare una cosa che richiede di essere intelligenti, furbi. Stupido e intelligente è una metafora, ok? Ignorante, che non sa, senza esperienza, persona qui che sa, che ha esperienza, che ha capito, eccetera eccetera, ok? Questa task la devi spostare più in là possibile, più in su. Quando tu avrai il massimo delle skill, il massimo dei soldi, il massimo dell'intelligenza, devi massimizzare la tua intelligenza, i tuoi soldi e le tue skill per poter fare questa cosa che è estremamente complessa. La devi spostare più in là possibile. Se noi, come dire, che siamo dei bambini neonati e ci buttano nell'oceano facendoci nuotare. Immaginiamo di avere, prima o poi nella vita avremo questa task, se vogliamo, di nuotare nell'oceano, mare aperto, nell'oceano tempestoso. Volete farlo quando siete dei bambini nel business e non sapete neanche quasi camminare? O volete farlo potendo scegliere quando siete degli adulti navigati? Ovvio che la propensione alla solitudine, alle persone, a tutte queste cose è personale, ma questa cosa provate a spostarla quando avete soldi, quando avete skill e quando siete navigati. Mi farà la differenza tra fallire e avere un sacco di successo. Mi si è anche scaricata la macchina fotografica, quindi direi che è ora di andare in conclusione. La conclusione è che un'agenzia è un'azienda e anche se la stiamo facendo con il forfettario nostro e del nostro amico, anche se ci hanno venduto il sogno dell'agenzia come la nuova startup, come lavoro facile, bellissimo e tutto il resto, da dove vogliamo nel mondo, è comunque un prototipo di azienda. Fare un'azienda non è facile, fare un'azienda è la cosa più bella del mondo, però ci dobbiamo arrivare con una droga di passaggio che si chiama freelancing. Se noi riusciamo ad arrivarci da freelance, riusciamo a fare tutte queste cose, riusciamo a crescere, riusciamo ad avere i soldi, riusciamo ad avere le competenze e tutto il resto. Ovviamente non è l'unico modo per arrivarci, ci sono persone che ci arrivano dalle startup, hanno vissuto la vita della startup e portano quella mentalità nell'agenzia e può funzionare anche questo. Però ragazzi il modello d'agenzia è un modello che nel breve termine è molto difficile da rendere profittevole e nel lungo termine molte poche agenzie riescono ad essere profittevoli. Quindi state sacrificando i profitti oggi per avere comunque dei problemi di scalabilità domani. pensateci bene, non sto dicendo che non si possa fare, ma dovete prima imparare alcune cose che sono fondamentali che vi metto qui e sono le stesse che vi servono per fare freelance. Ossia 1 essere bravi in qualcosa, 2 saperli far pagare, 3 diventare conosciuti, autorevoli, 4 diventare strategici e 5 poi solo poi scalare. Con scalare intendo andare sopra i 10k al mese o cose di questo tipo, un modello è l'agenzia, non è l'unico. Ma il problema è provare a fare questa cosa qui prima di aver fatto questa cosa qui. Questo è un grosso problema. Provare a tentare il sogno della scalata senza aver imparato veramente una skill, senza sapere come farci pagare tanto, senza essere conosciuti autorevoli che è quel personal brand di cui parlavamo, senza essere strategici, cioè senza avere quella visione a 360 gradi. Quindi, e qui dal mio punto di vista, quando arrivi qui, arrivi ai 10k. Dai 10k dici che hai scalo in determinati modi. Esco trascendo il freelancing. Sotto i 10k non hai nulla da trascendere perché non ci sei ancora arrivato, arrivata. Quindi se volete apprendere, diventare bravi in una skill, studiate, formatevi, fate pratica. Se volete capire come farvi pagare di più, capire come diventare conosciuti autorevoli, capire come diventare strategici e quindi iniziare la vostra scalata, ho un mastermind, si chiama Funky Lancers, siamo un'ottantina di freelance e parliamo proprio di questo, impariamo proprio questo, condividendo tutto ciò che funziona, tutto ciò che ha funzionato su di me e su tutti gli altri membri. E la qualità dei membri è mediamente davvero, davvero alta. Quindi se sei un freelance o se stai pensando di aprire un'agenzia ma non sei ancora arrivato, arrivata ai 10k, o sei quasi arrivato, arrivata ai 10k, e vuoi scalare, in descrizione c'è un link per Funky Lancers. Io ti lascio qui un video approfondito in cui ti faccio vedere tutte le skill che ti serve apprendere in ogni momento della tua carriera. Quindi quando sei all'inizio, quando sei prima dei 2k, quando sei prima dei 5k, quando sei tra i 5, i 7, i 10k, eccetera eccetera. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Ogni settimana cerco di pubblicare tutto ciò che ho preso nella mia carriera, sul mio percorso, e quindi ci vediamo nei prossimi video. Ciao! 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 Ciao!